Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Pala giustizia, iniziate le operazioni di sgombero dell'immobile di via Brigata Regina, candidato ad ospitare una parte degli uffici giudiziari. Oggi intanto incontro al Ministero per decidere le prossime mosse. Il clima coccente, qualche avvocato, c'è anche uno dei gatti che due notti fa avevano scelto la tenda dell'Aula 1 per passare la notte. Via Nazarianz procedono le operazioni di trasferimento dei fascicoli per i processi urgenti o con detenuti che si stanno ottenendo in piazza De Nicola. Le tre tenso strutture sono invece dedicate agli udienze di rinvio, oltre ad essere un simbolo per evitare che l'emergenza sia nascosta tra le mura di Modugno, come si fa con la polvere messa sotto il tappeto. E a prendere le difese dei lavoratori che fino ad oggi hanno operato in una struttura dichiarata di fatto pericolosa è il coordinamento sindacale penitenziario, che questa mattina ha tenuto un'assemblea davanti all'ingresso dell'ormai ex palagiustizia, dichiarando lo stato di agitazione. Qua dentro ci lavorano pure forze dell'ordine, magistrati, avvocati e voi operatori della stampa che venite all'interno. Quindi parliamo di quasi 6-700 persone al giorno che circolano in questo palazzo. 15 anni di silenzi, 15 anni di forze e di colpevolezze, ma oggi abbiamo una situazione di emergenza. Il cospi, il coordinamento sindacale penitenziario, settore giustizia, è sceso qui per denunciare veramente il disinteresse dello Stato italiano, il disinteresse anche della politica. Intanto sono iniziate le operazioni di sgombero dell'altro immobile INAIL, quello di via Brigata Regina, che al 99% ospiterà alcuni uffici di procura, GIP e GUP. Dal 1 gennaio tutto il personale si era già spostato nella sede del lungomare, ma restavano ancora mobili e faldoni. Il tutto mentre a Roma, al Ministero della Giustizia, si tiene un importante incontro per decidere le prossime soluzioni da adottare. A distanza di due anni siamo tornati in Largo Pascià, balzato agli onori della cronaca a causa della discarica abusiva in piena città contenente Amianto. Vediamo se è cambiato qualcosa. A distanza di due anni la situazione in Largo Pascià non sembra cambiata di una virgola. Balzata agli onori della cronaca perché individuata come sede per la tendopoli che avrebbe dovuto ospitare i ragazzi dell'ex set, era rimasta al centro delle polemiche anche perché lì a due passi, tra lo sgomento generale, era presente una vera e propria discarica abusiva. In tanti due anni fa hanno gridato allo scandalo, non solo per la presenza di questo scempio in piena città, ma soprattutto perché tra i rifiuti abbandonati era evidente la presenza di tettoie in Eternit mai messe in sicurezza. Tutto però sembrava in via di definizione con la promessa di un pronto intervento che però a due anni di distanza non sembra essere mai arrivato. Le tettoie sono ancora lì, come vedete dalle immagini, esattamente come i quintali di rifiuti abbandonati. E anche se a prima vista il luogo sembrerebbe abbandonato, di guardia al suo interno alcuni cani fortunatamente legati lasciano supporre il contrario. Purtroppo lo stato dell'incuria, del degrado rimane costante. Sicuramente c'è dell'amianto, sicuramente c'è bisogno che l'amministrazione prenda atto e intervenga. Lo ridiciamo da due anni, continuiamo a dirlo e non escluso che nel prossimo ore faremo anche qualche cosa di spettacolare. Da Palazzo di Città parlano di parziale messa in sicurezza non completata a causa di alcuni contenziosi in corso e dell'avvio a breve di ordinanze per agire in danno contro i proprietari dei suoli in questione. La stessa risposta però ci era stata fornita ben due anni fa. E diretto arriva lo sfogo dell'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli, che lamenta una carenza di organico all'interno della ripartizione, tale da non consentire di gestire tutte le emergenze del capologo pugliese. I carabinieri hanno eseguito tre arresti e due obblighi di dimora nei confronti di cinque presunti appartenenti ad un gruppo criminale accusato di aver compiuto furti per un milione di euro in aziende edili ed agricole del sud-est parese. Gli indagati, secondo l'accusa, sottraevano trattori, ruspe ed escavatori e dopo aver alterato i numeri identificativi, li rivendevano ad imprenditori che operavano nello stesso settore delle vittime oppure li restituivano ai proprietari in cambio di denaro. La banda operava Conversano, Castellana Grotte e Alberobello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di tentata estorsione, fulto aggravato, riciclaggio e ricettazione. E' un'idea di un bus da una settimana senza aver effettuato il riposo settimanale obbligatorio e stava per mettersi nuovamente in viaggio con una scolaresca di Bari alla volta di Salerno. L'autista è stato bloccato all'alba dalla Polizia Stradale nell'ambito dei controlli gite sicure previsti da un protocollo siglato tra Polizia di Stato e Ministero dell'Istruzione. Al conducente è stata ritirata la patente per consentirgli di riposare, gli è stata notificata una multa e la decurtazione di 5 punti dalla patente professionale. Il controllo è proseguito sul mezzo che è stato bloccato perché il dispositivo di emergenza per l'apertura della porta posteriore non funzionava. Questa mattina i consiglieri comunali di centrodestra Giuseppe Carrieri e Michele Piccaro in concomitanza con la scadenza della prima rata Tari hanno consegnato un assegno simbolico di 74 milioni di euro al sindaco di Bari. I consiglieri hanno dichiarato l'importo del 2018 che aumenta di 3 milioni rispetto al 2017 e inversamente proporzionale ai servizi di igiene urbana resi dall'amministrazione. Solo a Bari, a fronte di un aumento dei costi, assistiamo ad una peggiore pulizia delle strade oltre alla presenza ingente di blatte, scarafaggi e zanzare che vivono liberamente nelle numerose aree comunali non ancora diserbate. Questa mattina la consegna ufficiale delle chiavi ai gestori della spiaggia di Torre Coetta ma per l'inaugurazione bisognerà attendere ancora un po'. Sentiamo. Un paio di settimane al massimo assicurano i tecnici da Palazzo di Città e la spiaggia di Torre Coetta sarà pronta per ospitare al meglio i baresi. La consegna ufficiale delle chiavi ai gestori finalmente questa mattina ma per l'inaugurazione ufficiale e per poter usufruire di tutti i servizi previsti bisognerà attendere ancora un po'. Il ritardo dovuto al ricorso al Tari infatti ha fatto slittare i tempi e solo ora si potrà provvedere alla sistemazione di bagni e docce così come dell'arenile e dell'impianto di illuminazione. Dopodiché si farà sul serio con il via alla gestione quadriennale della società che si è giudicata la gara per la spiaggia più amata dai baresi. Vediamo quali saranno le novità. La spiaggia per i cani che sarà una spiaggia dedicata solo ed esclusivamente all'amico dell'uomo diciamo così perché sarà attrezzata con dei box perché chiaramente per motivi di sicurezza ci sarà la possibilità di questi cani di godersi il mare con i loro padroni in spazi dedicati per loro. Il percorso fitness sportivo dove saranno montate delle attrezzature che con un'applicazione su uno smartphone è come se ci fosse un personal trainer virtuale, una piscina dove la mattina verranno organizzati dei corsi di nuoto anche per i disabili e in più ci sarà anche un'attrezzatura o un marchigine, non so come definirlo che permetterà al disabile di godersi il mare in autonomo senza l'ausilio di nessun accompagnatore. E tra le novità, visto la maggiore durata della gestione, sarà anche possibile preventivare un prolungamento della vita della spiaggia cittadina anche in inverno. Se ci sarà l'opportunità, sì, perché anche chi gestisce i bar qui, l'animazione ci sarà. Quindi anche in inverno, visto che il tempo permette anche fino a dicembre, ci sono le belle giornate il tempo permettendo sicuramente daremo anche questo servizio. I lavoratori di OM Carrelli protestano davanti alla sede della Regione Puglia in una manifestazione organizzata da UGL. Sentiamo la voce di Rosa Armanda Partipilo, UGL Metalmeccanici. OM Carrelli, i lavoratori tornano a protestare sotto la Regione, la paura è che ci si dimentichi di quella che è la situazione? Sì, in realtà la nostra richiesta di manifestazione oggi è stata organizzata proprio per sollecitare un attimino le istituzioni, a darci le informazioni, a cercare delle soluzioni per questa vertenza che dura ormai da sette anni e vede 175 lavoratori circa senza sostegno economico da circa sei mesi. Oggi siamo stati ricevuti finalmente dal Presidente della Task Force regionale, Leo Carrelli, che ci ha effettivamente esplicitato quella che è la situazione che si delinea attualmente. Quindi ci ha parlato di quattro proposte che sono arrivate per la risoluzione della vertenza e ci ha comunicato che ovviamente in virtù di tutto quello che è successo in passato vogliono tenere aperte tutte e quattro le porte, per cui la prossima settimana dovrebbero esserci degli incontri con tutti e quattro gli imprenditori per formalizzare dei protocolli d'intesa che servono a vincolare l'impegno sia da parte delle istituzioni ma anche sia dalla parte degli imprenditori. L'informazione termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.televari.it Ed ora vi lascio al meteo. Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, scopriamo in fine settimana dal punto di vista atmosferico sull'Italia perché l'anticiclone farà un po' tra virgolette la parte del leone sulla nostra penisola con stabilità, bel tempo, ritroveremo solo sabato qualche temporale di calore sull'arco alpino tra il tardo pomeriggio e la prima serata, ma fenomeni veramente irrisori rispetto ai giorni scorsi di minore intensità. Bello anche il centro-sud, la prossima grafica ci conferma in gran parte la nostra penisola cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube alta di passaggio solo sulla Sardegna ma insomma non guasterà il weekend nemmeno sull'isola. Temperature guardiamole con la prossima grafica perché appunto solo qualche temporale di calore in montagna al nord e le massime altrove tra 26 e 29 gradi, sarà una tipica giornata estiva. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo. A grafica di Seperti A grafica di Seperti A grafica di Seperti E' stati A grafica di Seperti